Senti, Tortu è un cognome sardo, perché tuo padre è sardo, anche se tu sei il brianzolo doc, cioè sei nato in Brianzo. Sono, no, io mi sento sardo. Veramente? Sì, 100%. Poi, quando lo dichiaro, il ramo brianzolo della famiglia, in particolar modo mia nonna, si offende molto e me lo fa pesare. Sì, però sì, sono molto legato alla Sardegna, perché è la terra di mio padre e poi perché io mi riconosco nei modi di fare dei sardi, però non nascondo che sono nato, sono cresciuto e vivo in Brianza e anche da loro ho preso un po' e sono anche orgoglioso naturalmente della mia famiglia, della parte della mia famiglia brianzola. Però, insomma, quando corri e vedi qualcuno che ti incita con la bandiera dei quattro mori, sei tutto ringaluzzito. La portiamo sempre alla bandiera dei quattro mori perché, se ci si fa caso, in ogni manifestazione che sia sportiva o di spettacolo c'è sempre una bandiera dei quattro mori.